Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 10 anime da guardare su Amazon Prime Video. In questa lista ho incluso un po' di miei preferiti di sempre, alcuni titoli, vabbè, famosi però, secondo me, vale la pena guardarli e altri titoli, forse un po' più di nicchia. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, abbonandovi o commentando qua sotto. Potete sostenermi anche acquistando attraverso i miei link da affiliata o utilizzando i miei codici sconto da affiliata che trovate in tutte le descrizioni video. Grazie mille per il supporto. Partiamo con uno dei titoli più famosi probabilmente, ma so che fra di voi c'è ancora qualcuno che non l'ha visto. L'attacco dei giganti. Qui ci troviamo in un mondo in cui l'umanità è ormai agli sgoccioli e i pochi sopravvissuti vivono in una città circondata ad altissime mura per tenere fuori i giganti. Questi sono degli esseri che si cibano delle persone, per questo è importante tenerli appunto all'esterno. Ma un giorno un gigante colossale mai visto prima riuscirà ad abbattere queste mura e inizierà una strettissima lotta alla sopravvivenza. È una storia abbastanza inquietante che si avvicina un po' all'orrore perché questi giganti sono anche deformi, hanno un aspetto e delle movenze molto molto inquietanti. E come vi dicevo, l'umanità deve cercare un modo per poter sopravvivere. C'è all'interno anche strategia, intrighi politici. È secondo me una serie molto avvincente perché mescola bene azione, momenti di puro intrattenimento con trame un po' più sottili e appunto intriganti. Ogni tanto ci sono dei pazzeschi colpi di scena, quindi sicuramente una serie che tiene incollati dall'inizio alla fine. Perfetto se state cercando qualcosa di adrenalinico, avvincente e abbastanza inquietante. Ci sono delle scene abbastanza cruente. Altro titolo molto famoso ma è uno dei miei preferiti, Sword Art Online. In particolare l'arco di Aincrad. Qui ci troviamo invece in un ipotetico futuro in cui tanti giochi sono sviluppati con la realtà virtuale. Ed è proprio il caso di Sword Art Online, l'ultimo gioco appena uscito. Tutti si attaccano per poter giocare in questo nuovo mondo un po' fantastico, medievale. Ma quello che i giocatori non sanno è che una volta fatto il login non potranno disconnettersi e tornare quindi alla vita diciamo reale senza perdere la vita. E se si muore nel gioco, si muore anche nella realtà. Anche qua le premesse sono abbastanza inquietanti, ci troviamo in un mondo che potrebbe essere molto più vicino alla nostra realtà. L'aspetto forse più interessante è il fatto di ritrovarsi in un vero e proprio gioco di ruolo. Ci sono quindi sì combattimenti ma ad esempio anche vestiti un po' più particolari, creature fantastiche. E si riflette molto sulla differenza fra mondo virtuale e reale, se effettivamente ci sono poi delle differenze. Perché molte persone utilizzano i giochi e proprio il fatto di poter giocare online con tantissime altre persone per vivere veramente, esprimersi realmente. Essere se stessi in sostanza, perché evidentemente nella quotidianità non si riesce ad esprimere se non ci si sente accettati. Mentre attraverso questi giochi viene fuori la propria vera personalità. Andando avanti, l'anime secondo me un po' si ripete, alcune dinamiche non mi fanno impazzire, ma come vi dicevo proprio il primissimo arco è secondo me molto molto avvicente, bello. Anche graficamente parlando, secondo me è un anime che ha un po' di tutto. Wotakoi è invece una serie molto divertente che vede per protagonisti due ragazzi che si conoscevano nel periodo della scuola e si incontrano a distanza di anni sul posto di lavoro. Lei è una grandissima fan di boys love, file del fumetto, cosplay, eccetera eccetera. E anche lui condivide un po' questo aspetto, diciamo, da otaku, da nerd, con questa ragazza in particolare molto appassionato di videogiochi. Diciamo che queste passioni non sono sempre ben viste sul posto di lavoro e quindi decidono di mantenere nascosta questa loro passione e di condividerla appunto assieme. È un anime molto divertente che si basa un po' sugli equivoci e sulla doppia vita che fanno questi personaggi. L'ho trovato molto divertente soprattutto per chi magari è appassionato di fiere, di cosplay, anime, manga, perché sicuramente si rivedrà in tanti piccoli sketch, ci sono dei momenti veramente molto molto carini e penso che sia l'anime perfetto per chi sta cercando qualcosa di un po' leggero, di intrattenimento che vi faccia veramente staccare la spina. Voglio mangiare il tuo pancreas non è una serie ma un film d'animazione che ho voluto comunque includere perché penso che sia un titolo veramente molto molto bello. Vede sostanzialmente per protagonisti due ragazzi che frequentano il liceo, due ragazzi che non si erano mai parlati, non avevano mai approfondito la loro amicizia fino al giorno in cui si incontrano in ospedale. Lei infatti ha una malattia al pancreas ma sceglie di non condividere questo momento con i suoi amici del liceo, una ragazza molto molto popolare lei, ma non ha alcuna intenzione di rivelare diciamo questo segreto perché non vuole essere trattata in maniera differente. Capita però che uno dei suoi compagni di classe con cui appunto non aveva un particolare rapporto la veda all'ospedale e quindi decide di condividere soltanto con lui questo suo segreto. Proprio perché è l'unica persona a sapere della sua malattia, i due si avvicineranno e condivideranno dei momenti molto particolari perché lei è intenzionata a fare una serie di cose prima di morire. È una storia che mescola momenti di quotidianità, divertenti, buffi, alla fine sono due adolescenti, a momenti secondo me più drammatici e intensi. Proprio perché in una giovane età ritrovarsi a parlare di malattia, di morte sicuramente non è facile, è un contrasto decisamente forte. Ci sono secondo me dei momenti di riflessione abbastanza intensi, molto belli e dei momenti un po' più spensierati che riescono a bilanciare bene la storia. Se state cercando quindi un anime intenso di questo genere io ve lo consiglio caldamente. Tornando alle storie un po' più cupe, non potevo non consigliarvi The Promised Neverland. Qui troviamo un orfanotrofio in cui tutto sembra andare alla perfezione. I bambini sono felici, sono molto intelligenti, crescono bene, sono adorati dalla loro madre adottiva, quella che si occupa dell'orfanotrofio. Ma in realtà è tutta una pace apparente perché il vero scopo di questo posto è allevare i bambini proprio come se fossero bestiame per darli in pasto a delle creature. Quando verranno a scoprire, soprattutto i ragazzi diciamo un po' più grandi, la vera natura di questo posto tenteranno in ogni modo di fuggire. È una storia anche in questo caso abbastanza inquietante, un po' thriller ma soprattutto di strategia. Non ci troviamo di fronte a dei bambini diciamo comuni perché hanno un'istruzione sicuramente avanzata e particolare. Questo permette loro di ragionare un po' come degli adulti e quindi di tentare in ogni modo di contrastare qualcosa che è apparentemente molto molto più grande di loro. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una serie avvincente con diversi colpi di scena e è una storia abbastanza adrenalinica che tiene veramente col fiato sospeso. After the rain è invece una storia tratta dal manga come dopo la pioggia che vede per protagonista una ragazza liceale che a differenza di tante sue coetane non si innamora del ragazzo più popolare della scuola, di quello che si allena, del più bello, di un tipo sportivo. No, si innamora del suo capo che ha 40 e passa anni. Non è nemmeno così tanto bello o affascinante, è visto dalle sue coetanee proprio come un vecchio. Chissà che cosa ci trova lei però in questo uomo, è estremamente affascinata. Questo contrasto fra una ragazza molto giovane alla sua prima cotta, al suo primo amore, invece un uomo vissuto che ha già una famiglia alle spalle, se non ricordo male, un matrimonio, ha comunque un figlio. E secondo me è molto interessante perché vediamo appunto questo approccio diciamo sentimentale, amoroso da due prospettive totalmente diverse. È una storia di vita quotidiana, scolastica però con un risulto secondo me un po' più adulto. Certo, lei è una ragazza comunque liceale, quindi nonostante sia abbastanza matura per la sua età, ci sono dei momenti che ricadono nei classici cliché, ad esempio, degli shoujo manga. Però è una serie veramente molto molto carina. Altro titolo che secondo me non dovreste perdervi è Tokyo Ghoul. I Ghoul sono dei mostri che anche in questo caso si cibano degli esseri umani, ma sono abbastanza ben inseriti nella società. Riescono diciamo a vivere in mezzo agli umani, spesso passando inosservati. Ma la convivenza è ancora molto lontana. In particolare seguiamo un ragazzo che in seguito ad un attacco di un ghoul, seguiamo un ragazzo umano, qui verranno però trapiantati degli organi da ghoul perché in seguito ad un incidente era l'unica alternativa per poterlo far sopravvivere. Da questo momento si troverà in una zona totalmente grigia perché non si sentirà e non sarà a tutti gli effetti un essere umano, non potrà più condurre la vita di tutti i giorni come prima, ma dall'altra non è nemmeno totalmente un mostro. E quindi ci sarà una fortissima lotta interiore che rispecchierà la lotta del suo mondo. È una storia molto cruda, violenta, spietata anche a livello psicologico, è molto molto forte. Però proprio per questa lotta che non è soltanto fisica, non è soltanto bene contro male, ma ci sono diverse zone grigie a partire appunto da quello che sente in primis il protagonista, rendono la serie molto struggente, drammatica, però allo stesso tempo avvincente. Perché ogni persona comunque ha un lato diciamo più oscuro, ogni persona lotta contro i propri demoni. E qui viene reso proprio in maniera anche fisica. C'è molta lotta, c'è molto sangue, quindi non è una serie decisamente per tutti, però se non vi spaventa questo aspetto io ve lo consiglio caldamente. Altra serie che trovate su Amazon Prime Video, Pet. In questo mondo ci sono delle persone in grado di entrare nella mente di altre persone, di frugare fra i loro ricordi, in molti casi anche di modificare la loro memoria. Questa particolare caratteristica viene sfruttata da un'associazione criminale. In questo modo vengono coperte le malefatte dell'organizzazione. Però queste persone che vengono usate si fanno comunque delle domande. Perché in molti casi non solo viene modificata la memoria, ma si utilizza questa particolare capacità per distruggere e annientare le persone, sfruttando proprio i loro ricordi più intensi e dolorosi. E modificando spesso i ricordi belli e felici, quelli a cui ci si aggrappa in qualcosa di tenebroso e di insopportabile. Si parla quindi sì di criminali, ma criminali che spesso si interrogano su quello che stanno facendo. Poi ci sono comunque dei misteri legati al passato di ogni singolo personaggio che pian piano scopriamo. È molto interessante questo aspetto di entrare nella mente, di frugare fra i ricordi, i ricordi quelli più belli, più felici, che vengono manipolati in un certo modo, mentre quelli più oscuri. Insomma, è molto interessante anche a livello psicologico. E poi c'è questa parte un po' più intrigante di giochi di potere, dell'associazione misteriosa e anche le varie relazioni che si vanno a creare poi fra i singoli personaggi. Rende tutto l'anime sicuramente avvincente, intrigante e oscuro. È anche in questo caso un'anime abbastanza drammatico. Così come lo è sicuramente l'ospite indesiderato. Di nuovo ci troviamo in un ipotetico futuro in cui il mondo subisce una sorta di attacco-invasione aliena. Arrivano questi alieni che sono dei veri e propri parassiti che si insinuano nel corpo delle persone fino ad arrivare al cervello per poter prendere possesso del corpo dell'essere umano. E indovinate un po' di che cosa si cibano? Sembra un po' da costante in questo video, ma in realtà lo è di tanti anime. Questi alieni si cibano di esseri umani. E quindi una volta preso possesso del corpo di un essere umano, vediamo questi esseri umani mangiare altri esseri umani. Non accade questo però nel caso del protagonista, perché il parassita che cerca di prendere controllo del suo corpo non riesce ad arrivare al cervello, ma si ferma semplicemente alla mano. E quindi i due dovranno sostanzialmente convivere. Questa convivenza forzata permetterà ai due di conoscersi, diciamo meglio, di comprendere di più degli alieni, ma anche all'alieno di comprendere qualcosa in più sugli esseri umani e non vederli esclusivamente come cibo, qualcosa di inferiore da conquistare. Questo ragazzo tenterà poi di salvare i propri cari, perché conoscendo appunto in maniera intima e così profonda, diciamo, quello che sta realmente accadendo, sulle sue spalle insomma c'è un grande peso e si sentirà in dovere di difendere appunto le persone più deboli che sono totalmente all'oscuro di questa razza aliena. È una storia abbastanza cruda, a tratti violenta, però secondo me è molto interessante proprio per questo aspetto di convivenza forzata e del dare per ricevere. Questo scambio di informazioni, la volontà anche di capirsi e di provare ad accettarsi. E di nuovo c'è una sorta di lotta interiore, perché questa convivenza forzata porterà fuori comunque degli aspetti che il protagonista non pensava di avere, delle caratteristiche del suo carattere appunto che ignorava totalmente. Quindi è una sorta anche di scoperta di se stessi, di lotta interiore, ma anche per sopravvivere. L'ultimo anime che voglio consigliarvi oggi è Fate Stay Night. Qui ci troviamo di fronte a una sorta di gara competizione per arrivare alla conquista del Santo Graal e realizzare così un proprio desiderio. Il protagonista è un mago dilettante che appunto viene a scoprire in maniera inaspettata di questa rincorsa al Santo Graal a cui partecipano diverse figure, diversi master accompagnati dal proprio servant, rappresentato da uno spirito di un combattente più o meno storico. È un anime che unisce il combattimento, quello un po' classico, standard, anche in stile un po' medievale, vista anche la storia comunque di alcuni dei personaggi, dei cavalieri storici, a combattimenti di magia. Una storia è molto avvincente perché c'è un susseguirsi di prove, di combattimenti per arrivare a uno scopo ultimo. Però c'è anche la storia dei singoli personaggi. Ogni servant, come vi dicevo, si rifà comunque a un personaggio storico più o meno famoso e spesso si entra comunque nel dettaglio per scoprire qualcosa di più riguardo a questi personaggi. Anche le dinamiche fra personaggi diversi sono comunque molto interessanti. È secondo me una storia che sa bilanciare bene l'aspetto del combattimento, dell'azione, della strategia con un aspetto decisamente più umano. Molto avvincente anche per alcuni richiami storici, se vi piacciono poi gli anime di combattimento in cui ci sono armi particolari, mosse appunto specifica a seconda del combattente, eccetera, sicuramente adorerete questa storia. Questi erano quindi gli anime che volevo consigliarvi oggi da guardare su Amazon Prime Video. Mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti, innanzitutto se li avete visti e se vi sono piaciuti o meno. E poi quali altri anime consigliereste voi da guardare su questa piattaforma. Ce ne sono altri che io sto già guardando, che ho già visto, ma attendo, magari potrei fare in futuro una seconda parte di questo video. Spero comunque che i miei consigli vi siano utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!